Al 51esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, che si è tenuto a Riva del Garda nel mese di ottobre, sono stati presentati nuovi dati a favore del vaccino trivalente adiuvato e della tecnica rivoluzionaria per produrre una nuova classe di vaccini influenzali su cultura cellulare. Il congresso, dal titolo Influenza Revolution, i vaccini influenzali dalla tradizione all'innovazione, ha mostrato che nuovi studi sul vaccino trivalente adiuvato confermano la sua maggiore efficacia sul campo e il maggior vantaggio economico per l'immunizzazione della popolazione dai 65 anni in su. Da questo studio, che è uno studio retrospettivo su un'ampia popolazione di oltre un milione di persone coinvolgendo 63 mila soggetti vaccinati dal 2002 al 2016, quindi per 15 anni consecutivi, emerge chiaramente nella popolazione di oltre 65 anni una riduzione significativa delle ospedalizzazioni per polmonite, per infarto e per ictus nei soggetti vaccinati con vaccino adiuvato rispetto ai soggetti della stessa età e delle stesse caratteristiche vaccinati con vaccino trivalente tradizionale. Non tutti i vaccini che noi abbiamo a disposizione sono identici come indicazione e come raccomandazione per tutte le categorie, tutte le fasce d'età. Noi sappiamo dai dati epidemiologici che sono stati raccolti nel mondo negli ultimi anni che nella popolazione più giovane il vaccino più adatto è il vaccino quadrivalente e questo è dovuto al fatto che ci sono in alcune stagioni circolazioni di virus che non sono presenti nel vaccino trivalente, quello che contiene due ceppi A e un ceppo B e quindi per coprire anche nei confronti di un ceppo che non è presente nel vaccino e che può invece circolare nella popolazione fino ai 65-70 anni il vaccino più adatto è il vaccino quadrivalente ma nella popolazione invece al di sopra di quest'età l'impatto dei virus di tipo B che possono non essere corrispondenti a quelli del vaccino trivalente non è così importante mentre diventa molto più importante la riduzione della capacità di risposta nella persona anziana e quindi nei soggetti anziani fragili è importante utilizzare un vaccino adiuvato cioè un vaccino che attraverso l'aiuto di una sostanza che potenzia la risposta permette di raggiungere dei titoli anticorpali più elevati che garantiscono meglio nei riguardi della protezione dell'influenza e delle sue complicanze e tra l'altro permettono anche di avere una risposta più allargata, cioè questi vaccini consentono di ottenere una risposta che si allarga anche a dei ceppi virali che possono essere leggermente diversi rispetto a quelli originariamente emessi nel vaccino. In un ottico di miglioramento della costruzione dei vaccineti influenzali appare rilevante la nuova tipologia di vaccini che presto avremo anche a disposizione, cioè quelli prodotti su cultura cellulare. Questo permetterà sicuramente un miglioramento in termini di efficacia soprattutto nei confronti di determinati ceppi influenzali come ad esempio l'H3N2, quindi aspettiamo questa novità per vedere effettivamente quello che sarà la sua efficacia sul campo. Il miglioramento sicuramente lo abbiamo nel vedere quello che è la costruzione di un nuovo ceppo che non ha più mutazioni, nel senso che quando il virus replicava nelle uova si aveva un adattamento del virus stesso e quindi ciò che produceva poteva avere una bassa efficacia nei confronti del virus circolante. Tutta questa negatività è stata sorpassata con la nuova tecnologia, quindi il nuovo vaccino su cultura cellulare sicuramente va a colmare quelli che erano dei buchi, quelli che erano delle insoddisfazioni che avevamo rispetto al vaccino precedente.